Una donna instancabile, un artista a tutto tondo, uno spirito intramontabile, una voce unica sono alcune delle caratteristiche di Ornella Avanoni che non lascia il piccolo schermo ma neppure teatri. L'artista milanese infatti ha scelto di chiamare la serata programmata al Teatro Arcimboldi a Milano senza fine riprendendo il titolo di uno dei suoi brani più famosi. Ed è dunque protagonista del grande concerto evento intitolato Senza Fine per celebrare la sua carriera, forse il più importante evento nella storia della musica e della sua senz'altro. Un appuntamento che in molti si erano segnati sul calendario fin da inizio anno programmato per il 28 aprile. Ornella Avanoni, cantante intellettuale, impegnata, diva elegante ma anche senza tempo della musica italiana, ha suscitato fin dal debutto negli anni 60 l'ammirazione del pubblico italiano e anche degli addetti ai lavori. Una delle più importanti e riconoscibili artiste della musica dalla voce intensa e anche sofisticata, calda ancora ma anche graffiante, decisa a salire sul palco del Teatro Arcimboldi per una serata appunto unica in questo caso. Ma la sua carriera non si può certo racchiudere soltanto in una sera o in un paio d'ore di esibizione. Il repertorio, vastissimo, conta dischi dell'artista pubblicati in diversi paesi, tra i quali Austria, Spagna, Portogallo, Svizzera, Francia, Grecia, Turchia, Jugoslavia, Paesi Bassi, Regno Unito, Brasile, Argentina, Messico, Peru e Uruguay. Conta oltre 55 milioni di album venduti e questo la rendono una delle artiste con il maggior numero di vendite proprio in Italia. Proprio nel mercato italiano consistono in 53 i dischi, dei quali 39 in studio, 6 album live, 6 EP, 86 singoli, 61 raccolte. Inoltre la cantante ha pubblicato anche 4 album destinati al pubblico fuori dall'Italia tradotti per il mercato latino, francofono e tedesco. Insomma, grandi successi tra i quali spiccano alcuni brani come quello che abbiamo scelto oggi per voi. Si tratta di Domani è un altro giorno, che aveva come lato B c'è qualcosa che non sai. Un singolo di Ornella Vanoni, appunto quello che tra poco ascolteremo, pubblicato nel 1971. Scritta da Giorgio Calabrese e Jerry Chesnutt è una cover del brano inglese della cantante americana Tammy Winnett dal titolo The Wonders You Perform. Venne inserita nell'album Tammy's greatest hits, volume secondo, come ultimo pezzo del lato B del disco 33 giri all'epoca dell'uscita. Poi nel 1972 è stato inserito anche nell'album di Ornella Vanoni intitolato Un gioco senza età, che appunto ci è sembrato anche pertinente. Vista l'età della Vanoni, ma vista anche la giocosità con cui lei si presta ancora a tornare sul palco. Nell'ottobre del 71 in ogni caso ha prodato in classifica la posizione numero 9 per poi rimanere 10 settimane sempre in lista. Il brano è stato poi reinciso da Noemi nel 2019 come colonna sonora del film Domani un altro giorno per la regia di Simone Spada. E allora riascoltiamo l'originale insieme adesso.